Salutiamo il dottor Carpinteri, primario di medicina di emergenza e urgenza al Policlinico di Catania, che si è gentilmente offerto di fare questa breve intervista. Iniziamo. Allora, dati i lunghi tempi di attesa in pronto soccorso, come pensa si possa avviare a tale situazione? E come l'emergenza Covid è inciso ulteriormente su questa problematica? Buongiorno a tutti. Tempi di attesa in pronto soccorso lunghi, sì, è vero. È uno dei tanti problemi organizzativi del pronto soccorso. Le soluzioni che noi organizzative che abbiamo messo in campo per cercare di ridurre i tempi di attesa in pronto soccorso sono varie. negli ultimi anni abbiamo implementato tutta una serie di modifiche organizzative e strutturali all'interno del nostro pronto soccorso aperto oramai da due anni e mezzo. Tenete conto che tutto dipende dal numero di accessi che arrivano in pronto soccorso. Sostanzialmente il numero di accessi condiziona i tempi di attesa dei pazienti al pronto soccorso. Noi abbiamo una media di accessi fra 150 e 200 al giorno. Chiaramente non tutti con la stessa gravità, per cui il codice colore al triage definisce una prima stratificazione del rischio e determina la priorità di accesso ai pazienti più gravi rispetto a quelli meno gravi. I famosi codici colore, rosso molto grave, fino al bianco sono giallo in media gravità, verde poco grave, i bianchi dovrebbero essere già avviati a strutture ambulatoriali. Tutto questo non è chiaramente sufficiente a stratificare il rischio. Il problema dei tempi di attesa viene tra l'altro molto condizionato dalla processazione, cioè da ciò che avviene in pronto soccorso e da ciò che ruota attorno al pronto soccorso. Un buon pronto soccorso funziona quando c'è un ospedale che collabora e dà il massimo delle prestazioni e della rapidità nelle prestazioni richieste. Parlo dei laboratori analisi, della radiologia che devono essere chiaramente dedicate alle attività in urgenza, ma anche alle consulenze e soprattutto la possibilità di poter accogliere i pazienti che necessitano ricovero e che non possono stazionare in pronto soccorso. La difficoltà nel ricovero dei pazienti è probabilmente l'aspetto più importante che determina la maggiore attesa a monte dei pazienti in pronto soccorso, perché se il personale è dedicato a dare prestazioni sanitarie a pazienti che dovrebbero essere ricoverati presso altri reparti e ciò non è possibile, dobbiamo comunque assicurare cure sufficienti e quindi parte del personale viene distratto a fare altro rispetto alle attività di pronto soccorso. In realtà l'emergenza Covid che da metà marzo ci ha impegnato ha dimostrato come siano condizionanti i tempi d'attesa al pronto soccorso, sia il numero degli accessi dall'esterno, ma soprattutto appunto il tempo, la possibilità di ricoverare i pazienti. Durante l'emergenza Covid noi abbiamo ridotto ad un terzo il numero di accessi in pronto soccorso, cioè da 150 a 200 abbiamo avuto fra i 50 e i 100 accessi al giorno e i tempi di attesa si sono assolutamente abbattuti, non c'è stata attesa il triage e i tempi di permanenza in pronto soccorso, data la possibilità di ricoverare rapidamente i pazienti si sono notevolmente accelerati. Quindi paradossalmente il Covid dal punto di vista dei percorsi, dei flussi e dei tempi di permanenza in pronto soccorso è stata una manna dal cielo, paradossalmente. Buongiorno, io invece le volevo chiedere come questa emergenza sanitaria ha influenzato il suo lavoro quotidiano, sia a livello organizzativo o un po' in generale. Grazie. Sì, grazie. Condizionato soprattutto dal punto di vista organizzativo e nella gestione psicologica del gruppo. Dal punto di vista organizzativo noi abbiamo dovuto mettere sotto sopra il nostro pronto soccorso rivedendo tutti i percorsi. Il pronto soccorso prima dell'emergenza era organizzato per livelli di intensità di cura, un'area per la gestione dei codici a minore impatto assistenziale, quindi l'area bianco-verde in cui c'erano gli ambulatori visita per i pazienti sostanzialmente autonomi, l'area gialla per i pazienti intermedi che sostano per un periodo diciamo in media sei ore per concludere il proprio percorso diagnostico-terapeutico e l'area di elevate intensità di cura, la sala rossa e la shock room in cui andavano i pazienti più gravi. Tutto questo è stato rimesso in discussione e abbiamo dovuto rimodulare l'attività del pronto soccorso con aree ad elevato rischio di infezione Covid e a basso rischio di infezione Covid perché il percorso dei pazienti doveva essere completamente separato al fine di evitare possibili commistioni e quindi infezioni intraospedaliere. Sapete bene che a Codogno al nord buona parte dei focolai di infezione sono nati negli ospedali e a Codogno è nato purtroppo per non avere riconosciuto o per essere sfuggita alla diagnosi un paziente infetto che è rimasto in pronto soccorso per più giorni. L'epidemia si è sviluppata anche per questo motivo. Per cui abbiamo dovuto riorganizzare più e più volte le attività di pronto soccorso con un'area per i pazienti Covid in cui anche il personale sanitario andava con il massimo delle protezioni di sicurezza e il resto del pronto soccorso per la gestione dei pazienti che comunque senza infezione o probabilmente senza infezione devono continuare a ricevere un'assistenza adeguata. Questa è stata la cosa più difficile ed è stato più difficile rendere tutti i partecipi e immediatamente pronti a queste modifiche organizzative e strutturali. L'altro aspetto importante è stato gestire l'ansia e l'attenzione del personale. Insomma la paura, il terrore di essere infettati con purtroppo i presidi di protezione individuale centellinati che il contagio goccio è stato l'altro problema da affrontare e che stiamo affrontando ancora quotidianamente. Bene, buongiorno dottor Carpinteri. Io volevo chiederle una domanda un po' più in generale che riguarda la medicina d'urgenza. Volevo chiederle in modo particolare, in questo contesto della medicina d'urgenza, oltre a quelle che sono le conoscenze delle nozioni e dei protocolli che vanno seguiti, quali sono effettivamente i fattori indispensabili che consentono di compiere quella che è una scelta rapida e al contempo efficace, ma soprattutto come il medico deve approcciarsi alle diverse situazioni che gli si presentano giornalmente. La ringrazio. grazie, domanda difficile a cui rispondere, nel senso che la medicina d'urgenza, il pronto soccorso è una delle attività, secondo me il mestiere più bello del mondo, ma lo dico da innamorato della disciplina. I tempi, i ritmi, le scelte, la necessità di fare scelte giuste, spesso coraggiose, quasi sempre con poco tempo a disposizione, è la vera scommessa del medico di pronto soccorso. Devo dire che queste cose è difficile insegnarle, si imparano sul campo, occorre una predisposizione e occorre molto coraggio nell'affrontare questa disciplina, nell'affrontare e nel dare le giuste risposte a tutti i pazienti che si presentano da noi. Purtroppo il pronto soccorso è diventato, qualcuno lo definisce, l'unico faro assistenziale in una sanità che, non voglio generalizzare, ma spesso i cittadini non ricevono le giuste risposte dall'attività territoriale. Il medico di famiglia ha purtroppo pochi strumenti per poter dare risposte cliniche efficaci, i tempi d'attesa ambulatoriali sono spesso troppo lunghi e troppo spesso persone si rivolgono al pronto soccorso per ricevere risposte che sarebbero dovute avvenire in altri contesti. Ciò che noi dobbiamo fare certamente è quello di stratificare il rischio dei pazienti. In pronto soccorso spesso non arriviamo ad una diagnosi definitiva, la cosa più importante è cercare di capire qual è il rischio evolutivo a breve termine per la patologia di quel paziente. Non ci possiamo permettere e consentire di fare diagnosi a tutti, di dare una terapia a tutti, perché sottraiamo tempo all'arresto delle persone che aspettano risposte più urgenti e danno un rischio evolutivo più immediato. Non so se a ragazzi del primo anno è facile far comprendere questo, per assicurarvi vi dico che questa cosa è difficilmente comprensibile anche ai colleghi dell'ospedale o a chi ci amministra. La scuola di specializzazione di medicina d'urgenza è partita da poco tempo, in Italia si sono specializzati i primi colleghi da due anni a Catania, cioè verrà solamente il prossimo anno, e quindi questa è una disciplina nuova in itinere e al momento si impara sul campo. Prego. Grazie, buongiorno. Io volevo farle una domanda sul concetto di eroe che si sente ultimamente spesso in televisione. Sappiamo però che l'emergenza, i medici soprattutto del pronto soccorso spesso sono stati additati dalla stampa e anche, ahimè, aggrediti molte volte. Lei pensa che con questa emergenza del coronavirus sia stato davvero capito il ruolo importante, lo stress e anche il grande impegno che implica tale professione? Oppure crede che sia comunque ancora un differenziare il medico dalla figura dell'essere umano, al quale viene chiesto spesso anche l'impossibilità? Se devo rispondere onestamente, io credo che la figura del medico d'urgenza non è compresa. Sì, si sono sprecati elogi durante il periodo dell'emergenza. Io devo dire che la risposta del gruppo che coordino è stata, da questo punto di vista, straordinaria. La maggior parte dei medici sono veramente, si contano sulle dita di una mano, i medici che si sono sottratti a dare il proprio contributo quotidiano. Medici, infermieri, sociosanitari, personale degli inservienti e il personale di pulizia. Nessuno ha fatto un passo indietro, se non, ripeto, per poche eccezioni. Ma la realtà del pronto soccorso è veramente poco conosciuta. Il pronto soccorso del Policlinico è la prosecuzione del pronto soccorso del Vittorio Emanuele, il vecchio pronto soccorso cittadino situato in via Prebiscito, che ha subito soprattutto negli ultimi anni tutta una serie di aggressioni da parte degli utenti, di utenti chiamiamoli utenti, insomma. E devo dire la nostra esperienza da questo punto di vista è notevole. Durante l'emergenza, sì, abbiamo ricevuto tutta una serie di apprezzamenti e di manifestazioni di solidarietà da parte della cittadinanza. Ma vi assicuro che già adesso, con l'abbassarsi della tensione e il ritorno dei flussi in pronto soccorso a livelli normali, tutto questo si è già abbondantemente perso. Quindi, onestamente, il pronto soccorso, se qualcuno di voi pensa di farlo, ripeto, è il mestiere più bello del mondo. Non aspettatevi però pacche sulle spalle o grandi incoraggiamenti per chi è ancora una professione poco apprezzata e poco conosciuta. Ok, ringraziamo allora il professor Carpinteri per la sua collaborazione in questa breve intervista e ringraziamo anche il professor Trovato che ci ha consentito questo confronto. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.